Chainsaw Man gigante contro asteroide Che vincerà Questo è Chainsaw Man gigante Cioè una statua enorme di Chainsaw Man e Devil Hunter E si può anche muovere Fa anche Ma prima ragazzi riuscite a cliccare Più velocemente possibile Su questa Ferrari prima che scompaia Dai forza ce la potete fare Bravi va bene Mandiamovi un asteroide contro Due asteroidi Uno e due attenzione Arrivano Arrivano Eccoli Eccoli Beh Non ha più